Il nostro centro musicale nasce nel 2012 e ha l'obiettivo di considerare la musica come un mezzo e non come un fine. Quindi, normalmente, noi gestiamo la nostra attività creando soprattutto gruppi musicali, vocali o strumentali, formati da allievi ovviamente, e che hanno l'obiettivo di esibirsi per uno scopo sociale, quindi per aiutare una realtà che ha bisogno di avere un particolare contatto con il pubblico. Quindi noi facciamo incontrare i ragazzi con i responsabili di queste associazioni, facciamo spiegare qual è il lavoro delle associazioni e così i ragazzi conoscono per chi andranno a suonare, per chi utilizzeranno e spenderanno l'abilità musicale appresa. Quindi la musica è proprio come mezzo per raggiungere un obiettivo più alto, proprio per riuscire a costruire qualche cosa di bello, qualche cosa di buono. La nostra proposta però non si ferma qui, ovviamente abbiamo tutti i corsi vocali e strumentali, che poi hanno la possibilità di avere una certificazione, perché siamo in sede d'esame a BRSM, che è un ente certificatore inglese, anche quest'anno avremo gli esami, il 13 dicembre. Altro settore in cui operiamo è la musicoterapia, abbiamo un'equipe musicoterapica, formata da due musicoterapeuti, una psicoterapeuta e poi il nostro personale per la parte musicale, e ci occupiamo di progetti attivati appunto in ospedali, RSA, scuole, piuttosto che aziende anche all'interno di attività come il team building.